Niente corsa agli ultimi regali o listona a festa, tra pacchetti e pacchettini, nessun mercato in Piazza dei Signori, qualche banco in quella dei frutti, aperte le bancarelle di Piazza delle Erbe. Una vigilia di Natale all'insegna della sobrietà e del rispetto delle regole, quella che tutti stiamo vivendo. Questo primo giorno di zona rossa direi che sta andando abbastanza bene. È chiaro che la situazione è particolarmente strana perché c'è poca gente in giro. Stamattina abbiamo evidenziato cittadini che acquistavano beni alimentari, soprattutto sotto il salone. Già nel pomeriggio di mercoledì, padovani promossi dalla polizia locale che ha controllato 362 veicoli con 425 persone a bordo, tutte perfettamente in regola con l'ordinanza della regione scaduta alla mezzanotte per l'ingresso di tutta Italia nella zona rossa stabilita per le feste. Molti anche gli automobilisti che volontariamente si sono accostati ai posti di blocco per chiedere delucidazioni e chiarimenti. I controlli continueranno nei prossimi giorni. Noi continuiamo a controllare il territorio perché è evidente che è una necessità, soprattutto sempre per la sicurezza della salute dei nostri cittadini. Auspichiamo ovviamente che le regole vengano rispettate. Oggi, come ieri, abbiamo fatto una grande attività di controllo e di informazione e quindi auspichiamo che anche nei prossimi giorni possano essere seguite le regole, quelle proprie della zona rossa. Per il resto, un augurio di Buon Natale a tutti voi!